Screen Week, amici di Screen Week, ma ciao! È venerdì e proseguiamo questa nuova formula di Live Week che, come sapete, si è spostata su Instagram, anche per la live lunga del venerdì, che prevederà però la partecipazione di più ospiti a rotazione e il tutto per la durata massima di 60 minuti perché, come sappiamo, dopo un'ora Instagram ti blocca le dirette. Questa volta, però, la live sarà caricata successivamente anche su YouTube perché finalmente sono riuscito a capire come funziona tutto quanto e le mie abilità di hacker sono diventate incredibili, quindi mi faccio un applauso. Detto questo, di cosa parleremo oggi? Beh, gli argomenti principali saranno tre nello specifico. La fine della stagione 5 di Better Call Saul, che preannuncia una sesta e ultima stagione da urlo, mi verrebbe da dire, è un anno di Avengers Endgame perché, non so se lo sapete, ma sì che lo sapete, esattamente un anno fa arrivava nelle nostre sale l'ultimo capitolo della cosiddetta Infinity Saga. Terzo argomento con cui concluderemo sarà il futuro dei festival alla luce anche di quello che sta succedendo nel mondo in questi giorni perché le informazioni che ci sono giunte negli ultimi giorni sono decisamente discordanti e non è ancora chiaro il panorama che ci attende. Detto questo, vedo che è arrivato e inizierei subito con il... ...da meglio conosciuto come Doc Manhattan. Stiamo aspettando che si colleghi con cui parleremo appunto di Better Call Saul. Ciao, ciao Filippo, ciao a tutti. Spero mi vediate perché sono un po' al buio qui. No, ti vediamo, ti vediamo benissimo. Prima di tutto, come va? Noi ci sentiamo spesso, però non ci siamo mai sentiti su Instagram. Ci vediamo spesso, a parte il giocoliere che sto cercando di fare col telefonino per non farlo cascare, il resto va abbastanza bene, nel senso che compatibilmente con quella che è la situazione che è comune a tutti, per il resto, insomma, si tira avanti e dobbiamo fare. Aspettiamo che evolva meglio, si spera al più presto, tutto qui. Beh sì, assolutamente. Nel frattempo ci spariamo serie TV e film in gran quantità e come sai io ti ho invitato per parlare di un finale di stagione che per quanto mi riguarda è stata una bella bombetta. Sto parlando di Better Call Saul, che te annuncia anche una sesta e ultima stagione da urlo, come ho detto nell'introduzione. Purtroppo te l'avevo già accennato prima in chat Instagram e Tiranno, quindi avremmo massimo 15-20 minuti. Non possiamo parlarne per 5 ore come vorremmo. Non possiamo parlarne per 5 ore, assolutamente. Ok, ok. Cedo la parola a te. Cosa ne pensi di questo finale, di questa quinta stagione? Cosa ti aspetti dalla sesta a questo punto? Allora, mi aspetto una chiusura col botto, un po' in tutti i sensi. Era iniziata molto bene questa stagione perché ha fatto vedere finalmente la trasformazione che stavamo aspettando, anche estetica di Jimmy McGill in Saul Goodman. L'abbiamo visto finalmente indossare quelle camicie, quelle giacche, quelle cravate orribili con cui lo conoscevamo ai tempi di Breaking Bad e l'abbiamo visto diventare quello che l'avvocato traffichino che conoscevamo perché le serie precedenti e le stagioni precedenti ci hanno mostrato questa evoluzione. Sapevamo dove sarebbe andato a finire questo viaggio, però non sapevamo esattamente come ed era una cosa che sembrava già dalla prima stagione fosse arrivata a destinazione. Invece poi il rapporto con il fratello e tutto il resto, ovviamente non sbaglieremo niente, ai nostri amici che non l'avessero visto, fatelo, ma comunque insomma il viaggio è interessante. Però le puntate immediatamente successive mi erano sembrate un po' lente, perché come scrivevo in una recensione l'altro giorno, il ritmo non è mai stato un grande pregio di Better Call Saul. Anche nelle stagioni precedenti c'erano state tante puntate che avevano un ritmo così, però c'era lui che stava là a fare i raggiri, le robe col fratello, la senpai, per eccetera, quindi comunque l'interesse era particolarmente vivo. Qui sembrava abbastanza, anche fuori focus, c'era chiaramente un lavoro di costruzione che serviva poi, abbiamo visto, a sfociare nella parte finale della stagione, però mi sembrava abbastanza lento, come se ci avessero messo, che è una cosa che del resto succede mai nelle serie odierne, qualche puntata in più di quelle strettamente necessarie, no? Che sta roba dello spalmamento troppo orizzontale, della trama orizzontale, è un fenomeno a cui siamo anche abituati, caro Filippo, lo vediamo un po'. Si dice, bella sta stagione, però quella puntata lì, tanto che faccio fatica quando una stagione dura dieci puntate, direi, oh, sta stagione è stata bella tutta, cioè quella, le singole puntate, insomma, è così. Però poi già dalla sesta, settima inizia a ingranare di nuovo l'ottava Bagman, che in italiano è Corriere, credo, il Corriere, è stata apprezzata da tutti perché è bellissimo. Killigan ha dimostrato che quando vuole sa di nuovo tirar fuori un mini film pazzesco, perché poi questa serie è frutto del suo lavoro quanto di Gold, che tra l'altro ha diretto diversi episodi. Però il risultato è eccezionale, cioè quella puntata è una roba che la guardi e non ci credi fino a quando non arrivi alla fine e da lì fino all'ultimissimo secondo del finale, del season finale, c'è una costruzione della tensione che non molla mai neanche un istante. Questa è una cosa molto bella perché ti tiene incollato lì, ci sono tanti personaggi che funzionano molto bene. Lalo Salamanca è un personaggio che all'inizio dici, vabbè, dai, uno come tanti, siamo abituati a vederli di ogni tipo, i Salamanca ormai. Da tucco in poi ne abbiamo visti di tutti i tipi, quello vecchio e saggio è paralitico, il rompicoglioni, il pazzo sclerato. Lui invece è un personaggio che sembra un coione, uno schizofrenico che passa dal sorriso al sbotto di violenza e ritorna ogni tre secondi. Poi sul finale ne esce molto bene, ma secondo me il personaggio che è più sorprendente forse in questa stagione è il personaggio di Kim, perché noi tutti da Kim ci aspettiamo qualcosa, deve essere stata per le prime stagioni il grillo parlante di Jimmy, anche se la sua complice negli scherzi. Comunque era il personaggio che gli ricordava, guarda, tu devi fare l'avvocato, l'avvocato queste cose non le può fare. Adesso abbiamo il dubbio che anche lei è andando con lo zoppo ha imparato a zoppicare oppure lo sta solo mettendo alla prova, o ancora sta studiando l'uomo con cui vive. Tutto questo lo scopriremo nella sesta stagione. È un peccato che la sorte di alcuni personaggi già la conosciamo da Breaking Bad, sappiamo tutti che fine fa Mike, e questo è un gran peccato, perché per come sono belli questi personaggi, Mike come Fring di Esposito è un personaggio fantastico, Mike Hermantraut. Questo è un po' un peccato. Tutti gli altri, Nacho, Lapo, eccetera, vedremo che cosa ne sarà. Certo, Breaking Bad è un'indicazione, visto che questo è un prequel, però... Un'altra cosa che ho trovato molto interessante è il fatto che per le stagioni precedenti ti teneva agganciato Better Call Saul con questa cosa che ti mostrava che cosa ne era stato di Saul Goodman dopo. Tutta la parte lì dei dolcetti al gusto di cannella nel centro commerciale, capisci che quella parte è ambientata qualche anno dopo, lui è in fuga dai tempi di Breaking Bad. Tutta questa roba qui, postuma rispetto agli eventi di Breaking Bad, in questa stagione se la sono giocata nelle prime puntate, con una reazione maggiore. Dopodiché l'hanno lasciata da parte perché si sono concentrati sul resto e questa è una cosa apprezzabile. Anziché centellinarti ogni puntata quei tre minuti, due minuti di non rivelazioni, hanno deciso di farle rivelazioni alla fine. Vedremo come andrà. È giusto che si concluda la prossima stagione perché il viaggio di cui parlavo prima secondo me è ormai arrivata alla fine, però l'ho apprezzata nel complesso molto come stagione. Nel contesto di una serie che è bellissima e secondo me è ormai superato anche Breaking Bad per varie ragioni. Sì, anche perché una cosa che hai detto tu, che potrebbe essere un pro e un contro anche di questa serie, è il fatto che noi sappiamo già quello che succede a determinati personaggi. E da un certo punto di vista sappiamo anche quello che succede, non lo sappiamo del tutto, però sappiamo che ci sono personaggi a cui noi siamo particolarmente affezionati, che sono destinati ad uscire di scene in qualche modo. Non avendo rivisti in Breaking Bad. Non fanno parte dell'universo di Breaking Bad. E mi viene quindi, io ultimamente, anzi sto proprio scrivendo, ho interrotto adesso un articolo su quale sarà il destino di un personaggio, un personaggio che poi è passato al lato scuro da un certo punto di vista. Abbiamo capito, tu hai parlato per esempio della metamorfosi di Kim durante questa stagione, non si sa cosa le succederà, cosa ne sarà. E c'è anche un'altra incognita. E qua per esempio c'è un grande trattamento per quanto mi riguarda a un grande lavoro di sceneggiatura. se pensiamo al fatto che quelli che sono due personaggi ormai centrali nell'universo di Better Call Saul e sono Lalo, che ha avuto uno sviluppo incredibile come cattivo, è veramente veramente notevole, e Nacio, Ignazio Varga, che sono due personaggi che sono stati sviluppati da un semplice scambio di battute che c'è in un episodio della seconda stagione di Breaking Bad. Non so se te lo ricordi, non so se ce l'hai presente, ma nel momento in cui Jesse e Walter rapiscono Saul e Saul entra in scena per la prima volta, lui dice ai due chi siete vi manda l'alo, no è stato Ignazio. Ed è una cosa che, cioè erano due personaggi che magari, cioè due nomi che erano stati messi là, se è per caratterizzare, per capire che lui era amico del cartello, semplicemente. E da lì invece sono riusciti a sviluppare una backstory che è bellissima. Il problema adesso è capire cosa succederà a loro due, alla luce anche di quello che è stato detto in Breaking Bad. Ed è una cosa che mi mette tantissima curiosità nei confronti della prossima stagione. Non so se trovi anche tu che sia… non è facile comunque sviluppare una cosa così interessante da una linea di battute. Mi viene in mente un esempio, per esempio, anche se non c'entra niente, sono due mondi completamente opposti. Però è un po' quello che hanno fatto con Rogue One di Star Wars, che hanno sviluppato una storia intera da un piccolo passaggio dei crediti iniziali di una nuova speranza. E da una domanda che tutti si ponevano su il vulnus di costruzione della morte nera. Guarda, il punto secondo me è proprio questo, che noi non sappiamo quello che succederà e se la possono giocare in 3.000 modi diversi. Abbiamo fatto l'esempio di Kim. Noi Kim in Breaking Bad non l'abbiamo vista. Perché avessimo visto una bionda di spalle nello studio di Saul Goodman, con la bilancia al muro e i 50.000 telefonini nei cassetti, avremmo detto ah vabbè Kim, tanto l'abbiamo vista che stava lì. Noi non sappiamo che cosa succederà di Kim, ma può darsi che... può succedere qualsiasi cosa, possono restare assieme, può morire, può scomparire. Può essere che ai tempi di Breaking Bad siano andati a fare una vacanza in Francia, come si portava nei telefilm dei primi anni 90. Cioè, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa perché la puoi giustificare. Non hai nulla che ti dica al contrario. Lo stesso vale per Lalo, per Nacio, Ignacio e tutti gli altri. Mike, dicevo, l'abbiamo visto quello che gli succede in Breaking Bad e questo purtroppo è un peccato perché l'unico finale è già scritto. Tutti gli altri, Saul Goodman compreso, per quello che accade dopo la sua fuga, vai a sapere. Cioè, lì il fattore sorpresa ancora persiste e anche per questo motivo hanno fatto bene, secondo me, a non giocarla troppo sui ritorni che è un elemento che c'è, è molto centellinato pure quello, c'è anche in questa stagione, c'è solo un paio di ritorni in questa stagione, però sono lì quella comparsata che ti fa sorridere, però dei personaggi noi di tutti sappiamo qual è stata la loro sorte, non ha molto senso. Tutti, quando è partita questa serie, si aspettavano di vedere il professor White che ancora a scuola prima che iniziasse a commerciare in metanfetamine e a cucinare e a vendere la metanfetamina, a che cosa serve? Io immagino che un cameo di questo tipo ci sarà nell'ultima serie, nell'ultima stagione, alla fine della serie, avrebbe senso come saluto, lo fai, un grande classico, come il corridoio di Scrubs, quando Jay Lee va via, ci sono tutte le persone che ha incontrato, tante persone che ha incontrato nelle stagioni precedenti. Questa cosa qui ha senso, ma farlo vedere nella prima e nella seconda stagione, che diavolo serve? Tanto quel personaggio abbiamo visto tutto quello che dovevamo vedere, anche la sua vita precedente, quando era professore, scopre di essere malato e tutto il resto, quindi non ha assolutamente senso. Vedere Jesse, che faceva lo spacciatore nel corso della prima o della seconda stagione, così, giusto per dire, ah guarda, c'è Jesse Pinkman, secondo me non ha senso. Sono molto più curioso di vedere cosa è successo a Russell Goodman dopo, e questo lo vedremo, credo, negli ultimi secondi dell'ultima puntata della sesta e ultima stagione. Perché sì, ci farà forse, penso, non forse sicuramente, come hai detto, capire anche quello che sta vivendo, effettivamente, me l'aspetto anch'io, una cosa del genere, anche un dopo rispetto a tutto il prima che ci è stato raccontato. Non lo so, perché comunque delle comparsate illustri ci sono state anche nel film sequel che è uscito di Breaking Bad, per esempio, sì, qualche cosa l'hanno fatto. Potrebbe anche succedere, però dipende sempre da quanto collideranno i due mondi. Cioè, se la serie effettivamente dovesse finire nel momento in cui magari inizia Breaking Bad, o forse dovesse proprio terminare prima di quell'episodio che ho citato della seconda stagione, quando comunque il film sarebbe già avviato, perché magari non lo sappiamo quanto si siano già uniti i due mondi, effettivamente. Sì, quella cosa che racconta non sappiamo in che momento si colloca rispetto a quando la racconta. Potrebbe essere successa anche il mese prima, la settimana prima, così come molto tempo prima, no? Anche perché immagino che se lasci un conto aperto col cartello non è che è una roba che va in prescrizione dopo un paio di mesi. Visto che solo era molto preoccupato, probabilmente poteva essere anche una roba un po' più vecchia. È una transizione che sta avvenendo lentamente con la tecnologia, per esempio i cellulari sempre più moderni, stagione dopo stagione. Ho letto anche delle critiche nel corso delle prime stagioni ma in quell'anno non si trovano gli eventi, non poteva esserci quel cellulare. Ma chi diavolo se ne frega, no? Poi alla fine, voglio dire, non è quella la cosa importante, non è un documentario iper realistico sull'evoluzione dei telefoni cellulari, anche chi se ne frega. Lo vedremo alla fine, anche perché al di là del punto d'arrivo rispetto a Breaking Bad, quello che si svolge là in quella città piena di neve con le ciambelle, i cinnamon roll, quello è sicuramente successo dopo e quindi vedremo lì quanto di quella storia lì verrà ancora raccontato. Sono abbastanza curioso. Però devo dire che ha più senso inserire il tutto così in una serie organica che fa crescere i personaggi che probabilmente vedere un film posticcio come Il Camino, che al di là della scimmia che ci ha portato perché ha annunciato a tradimento, ti arriva una roba del genere. Col senno di poi hanno ritornato la produzione di questa quinta stagione per mettere in cantiere Il Camino ed era una roba che, sì, carino, ma poteva anche non esserci. Non era strettamente indispensabile, almeno secondo il mio modo di vedere. Sì, effettivamente. Anche perché non aggiungeva granché, cioè che la storia di Jesse fosse finita in quel modo, nell'ultima puntata di Breaking Bad, o che finisce così, non è che cambia tanto. Ha aggiunto il film e quando un percorso non ti aggiunge niente di nuovo probabilmente non è così importante. Soprattutto anni dopo la conclusione della serie. È vero, è vero. Doc, ti devo salutare. Purtroppo c'è stata una chiacchierata bellissima. Devo dire che sarei rimasto ore a parlare con te, ma purtroppo Instagram è veramente un tirano. Sono i tempi di Instagram. Sì, Instagram è un cattivone. Ci rivedremo qui, magari, prossimamente. Alla prossima. Grazie, Primo. Grazie mille. Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Noi adesso aspettiamo Tico che si connette e io nel frattempo vi dono un po' di musichetta, così. incredibile, sei già arrivato, sei velocissimo. Ciao. Ciao, caro. Come fai a fare questa cosa? Hai visto che sono diventato un virtuoso di Instagram? Come fai? Oh, spiera, compiegami il segreto. Sono dei trucchi incredibili, eh. Ti dirò di più, perché l'altra volta tu non c'eri. La musichetta che sentivi l'ho anche fatta io, così evitiamo cazzi a livello di diritti. L'hai composta tu? L'ho fatta io, vabbè, con un programmino per fare musica elettronica. Tu sei un bassista, vero? Io suonavo il basso, sì, suonavo il basso e cantavo anche in un gruppo punk, però preferirei non ricordare quel periodo. Come no? Come no? Ma me le dà lezioni di basso, se te le chiedo? Ma che? Io ero un bassista punk, figura di se lo sapevo suonare il basso. Ah, vabbè. Il bassista punk, cioè, fa casino e basta. I cantanti punk non sanno suonare le cose. No, no. I musicisti punk. Basta che vai sul palco e fai casino. Comunque, amico mio, oggi ti ho chiamato oggi per celebrare un anniversario particolarmente importante. Perché esattamente un anno fa in Italia arrivava nelle sale Avengers Endgame. Prima degli Stati Uniti, tra l'altro. Prima degli Stati Uniti, sì, perché noi abbiamo il weekend cinematografico anticipato. Esatto. E al di là del film, della qualità, io penso che sia innegabile dire, a parte che a me è piaciuto e mi ha anche emozionato, non lo nascondo, però penso sia innegabile parlare dell'importanza che il progetto nel toto ha avuto. Perché Avengers Endgame è stata comunque il culmine della cosiddetta Infinity Sabade. Era un progetto iniziato con Iron Man anni prima, una cosa che non si era mai vista nel cinema, una sorta di rivoluzione cinematografica, se così la vogliamo definire, che comunque lascerà il segno. Cosa ne pensi, a distanza di un anno, riguardando questo percorso, questo progetto e questo film? Che ci dici? Allora, guarda, ti dico una cosa che ti avevo detto anche quando avevamo parlato di Disney Plus, una live che avevamo fatto sul canale YouTube di Screen Week, che nonostante non trovassi un granché di materiale da vedere su Disney Plus, ho colto l'occasione per andare a recuperare tutti quei film della Marvel, no? Che avevo visto al cinema quando erano usciti, tra cui i primi Iron Man, insomma, Thor, il primo Avengers che ho visto una volta al cinema nel 2012 e basta, mai più vi eri visto. E quindi mi sono, come dire, ho avuto questa specie di illuminazione che io non avevo mai avuto prima d'ora perché sono un imbecille. Ho detto, che lavorone che hanno fatto, come per dire, no? Tutti lo sapevano che era un grande lavoro, però se poi vai a rivedere i film sapendo quale sarà la fine, dai ancora più peso a tutta una serie di battute, di momenti. Cioè, per esempio, io non avevo mai colto in Endgame perché lui dicesse io sono Iron Man e tutti si erano emozionati. E a me questa cosa non mi veniva proprio in mente il fatto che lui l'avesse detto una volta in un film cinque anni prima, in un momento molto importante. Quando lui, diciamo, smetteva, no? I panni di Iron Man. Tutte queste cose, queste e tanti altri, tipo I can do this all day di Capitano America, che lo dice almeno... Ecco, tutte queste cose io non le avevo più ricollegate. Uno perché non è che guardassi film con particolare interesse all'epoca, quelli della Marvel, perché proprio non sapevo qual era lo scopo, come poi abbiamo scoperto. E poi perché non ho più avuto l'occasione di rivederlo. Quindi, rivedendoli e poi arrivando ad Endgame, ti dico, è la scena finale in cui loro, i veri Avengers, cioè tutti i personaggi positivi che abbiamo visto in dieci anni, sfidano il cattivone. Ebbè, è una cosa molto emozionante, devo dire. E come hai detto te, non è mai avvenuto una storia del cinema e non avverrà mai più. Nel senso, lo rifaranno loro, cioè, lo continueranno a fare loro, perché qualunque tentativo di fare una cosa simile, o sarà una scopiazzatura, o sarà una serie tv. Parliamoci chiaramente. Quindi la Warner ci ha approvato, ma non è riuscita nello stesso intento, perché accelerando in maniera troppo frittolosa tutto il processo, ha prodotto dei film che non sono stati memorabili, diciamo. Sicuramente alcuni sono carini e divertenti, tipo Aquaman è un film molto piacevole, Shazam è un film divertente, Joker è un film estremamente bello, ma non c'entra quasi nulla con il resto dell'universo. Batman contro Superman, un cut è figo, l'altro un po' meno. Ecco, è un mozzichi e bocconi, no? Sì. E invece là, se ci sono film che magari non sono bellissimi, non lo so, io continuo a non amare Black Panther, perché, non lo so, secondo me è un film paraculo, che gioca sulle giuste corde, ma non riesco ad amarlo. Non mi sembra sto film che meritava i tre Oscar che ha vinto, come poi abbiamo più volte detto quella live quella volta, però è un film talmente importante, da un punto di vista sociale, che capisci perché ha avuto quel successo. Cioè, è il primo film in cui i neri d'America possono rivendicare A di essere stati schiavi, cioè la loro storia, cioè l'essere stati schiavi, lo possono rivendicare con orgoglio in un certo senso, e in altro dire, ma noi siamo quelli che eravamo, ma siamo anche nuovi, e quindi unire le due cose per dire, diamo quello che noi sappiamo al resto del mondo. Quindi è un film scritto molto bene, poi, magari non è entusiasmante per altri motivi, ma quello è un problema mio, perché a moltissimo è piaciuto, in America ha avuto un successo pazzesco. Quindi, che dirti, è una roba sensazionale, i loro piani, tra l'altro, forse anche per fortuna, questo virus è arrivato, diciamo, nella pausa, tra l'Infinity Saga e quello che verrà dopo, perché, pensa, tu ti rendi conto che questa cosa fosse accaduta con l'uscita di Avengers Endgame oggi? Ci stavo pensando prima, oltretutto. No, tu immaginati che Pepe al sedere avrebbero avuto i vertici della Disney per decidere che facciamo, aspettiamo, o lo mandiamo, sarebbe stata una cosa, un disastro, da un certo punto di vista, dall'altro, chissà, avrebbe aumentato ancora di più la fama delle, no? Non c'era neanche alternativa, che non penso che l'avrebbero mai fatto, ma non sarebbe mai passato in mente, mettiamolo su Disney Plus, perché non c'era. Però, sì, le due, tra l'altro, sì, effettivamente, cioè, ci stavo pensando proprio prima la stessa cosa. Cioè, pensa, se fosse arrivato nelle sale, cioè, con una situazione del genere, cioè, se non fosse arrivato nelle sale in una situazione come quella che stiamo vivendo, o, paradossalmente, però, ne avrebbe aumentato l'hype, magari, perché... Non lo so, sarebbe diventato, secondo me non avrebbe intaccato minimamente il, minimamente la, come dire, il potere di marketing che ha della Disney. Anzi, avrebbe aumentato a dismisura l'hype, perché dice, ho aspettato un anno, ora devo aspettare altri sei mesi. Però non è colpa vostra, come dire, non è che è una decisione perché, che ne so, il film non è bello, come è successo molte altre volte. È perché avrebbero potuto fare un marketing molto diverso, quindi, far attendere ancora di più i fan in maniera molto particolare, che ne so, avrebbero inventato delle grafiche, dei video, chissà, qualcosa si sarebbe inventato. Comunque, quello, What If, no? Che poi sarà uno dei nuovi progetti della Marvel, tra l'altro. Della Marvel. Chissà che, vedevo un interessante, un interessante, non voglio fare pubblicità a siti che non sono Screen Week, però, devo dare credito, ho visto un interessante live sul, cosa sarà il futuro delle sceneggiature. E io mi chiedo, in che modo questa situazione influirà su quello che verrà scritto in futuro? Cioè, grandi colossi, tipo la Disney, ma sfrutteranno questa cosa per creare storie struggenti? Perché poi, di chi stiamo a parlare, sono morte e stanno morendo migliaia di persone, quindi, insomma, sarà una cosa che ci cambierà. Però, dall'altra parte, magari uno, invece, non vuole più riviverla, sta cosa, perché nessuno, forse, vuole riviverla, no? Non lo so, è un pensiero che, però, uno si fa, perché non puoi manco far finta di niente, come dire. Cioè, nei prossimi film la gente sarà con le mascherine, perché se non sarà senza mascherine, dai un brutto insegnamento, no? È una cosa che ti segna. In realtà, avevamo scritto anche noi una riflessione del genere su Screen Week, l'aveva scritta Lorenzo della nostra redazione, perché noi non ce ne stiamo rendendo conto, forse ce ne stiamo rendendo conto, però non riusciamo a capire quanto questo influirà sulle nostre vite. Ed è scontato che il cinema, da un certo punto di vista, rifletterà quello che è successo, perché lo ha sempre fatto. Anche se, in realtà, adesso non stiamo più parlando di Avengers Endgame, però penso che sia bella come riflessione questa. Perché se noi ci pensiamo all'impatto che l'11 settembre ha avuto, per esempio, sul cinema americano, Cioè, M. Natchamalan ha fatto film su film che apparentemente non riflettevano su questo, però continuavano a riflettere sulla questione dell'11 settembre. Spike Lee ha fatto uno dei suoi film più belli, che è una riflessione sull'11 settembre, che è la venticinquesima ora. Tornando indietro nel panorama cinematografico italiano, abbiamo il neorealismo, che comunque è nato dopo una situazione, anzi come reazione ad un periodo che l'Italia stava vivendo decisamente non facile, il dopoguerra. Questo non è un dopoguerra, anche se molti comunque stanno continuando a definire questa pandemia come una vera e propria guerra. Quindi un impatto, al punto di vista cinematografico, lo avrà. Delle storie ambientate durante questo periodo ci saranno, di sicuro. Cioè, non la parola. Ecco qualcuno sotto che dice, appunto, ci sarà reazione, ci sarà ricerca di più spensieratezza, però non può neanche far finta di nulla, secondo me. Nel senso che sta lì, è successo, è accaduto, non puoi passarci sopra. Ovviamente ci saranno certi tipi di film spensierati, tipo la Pixar, magari non se ne sbatterà. Però in una scena all'aperto a New York, New York ha avuto 20.000 morti. Forse New York non ha mai avuto una tragedia del genere nella sua storia, perché New York non è mai stata attaccata, tranne appunto in un film della Marvel. Ecco, adesso magari ci penseranno a fare una tragedia a New York. Questo dico perché New York, se ci fai a casa, è sempre la città più colpita da tutte le disgrazie. Alla fine gli hanno tirato, è successo veramente. Sì, sì. Oltrorarci. Quindi ti chiedo, la Marvel in realtà c'entra pure con loro, cambierà il loro modo di scrivere cose? Vedremo, questo non lo so. Comunque, tornando agli Avengers, devo dire, sì, rivedendo col senno di poi, ragionando, wow. Un lavoro epocale che segnerà, forse un unicum più che segnerà la storia. Cioè, non ci sarà un prima e un dopo, ci sarà però quella cosa eccezionale che è accaduta tra il 2008 e il 2019, che è stata l'infini di saga. Perché poi la prossima saga sarà già, come dire, già vista. Già vista. Nel senso, presenteranno nuovi personaggi, presenteranno, che ne so, Shang-Chi, gli Eterni, il Tribunale Vivente, non lo so, Galactus. Presenteranno gli X-Men, presenteranno i Fantastici Quattro di nuovo, con nuovi personaggi. Faranno una cosa, cioè dovranno fare una cosa ancora più enorme. È difficile. Poi, il mio passo successivo nel 2040 è il crossover. Ed è, tu hai detto anche una cosa che è difficile. Il crossover con la Warner, eh? Il crossover con la Warner, tu dici. Ah, aspetta. Oh, ah. Cioè, io, se fossi Bob Iger, direi, oh, mettiamoci d'accordo. Perché? Tu non vorresti vedere su grande schermo Superman che prende a cazzotti Hulk? No, assolutamente sì. Cioè, assolutamente sì, chissà che non possa succedere. Anzi. È successo. Considerando, sì, anche poi le dinamiche cinematografiche. Ci dicono anche che Fantastici Quattro è stata sempre un'ecatombe. Sì, Fantastici Quattro, loro non hanno mai avuto fortuna sul grande schermo. Chissà se l'avranno. Però, sì, è un punto... È come hai detto tu, una cosa che, cioè, rimarrà lì. Cioè, al di là, perché poi noi tendiamo ad identificare, sai, il cinema importante come quello dei grandi autori. del... Però, al di là di questo, il progetto Avengers, il progetto Marvel Cinematic Universe, è una cosa che sicuramente verrà citata in futuro anche nei libri di cinema. Perché è una cosa completamente nuova dal punto di vista cinematografico. come, come, per esempio, io non sono un grande fan di Avatar. Non l'ho visto una volta, ho provato a vederlo una seconda volta e mi sono tremendamente annoiato e l'ho visto più. Nonostante il film non mi piaccia, però sono anche consapevole del fatto che è importante dal punto di vista cinematografico. In questo caso, per quella cosa che hai detto tu, che magari il progetto Marvel Cinematic Universe non ha, o forse no, vedremo. Perché c'è veramente un cinema prima e dopo Avatar. Quindi quella è una pellicola di svolta molto importante per gli effetti speciali e... 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 e tutto quanto. Ci stanno chiedendo, secondo voi, tra Avengers e Parasite, che è stato più segnante, però è un paragone... Beh, è un paragone un po' strano. È abbastanza strano come paragone. Cioè non vi viene neanche di dire... Ma Avengers da solo non è segnante, nel senso Avengers è parte di un progetto segnante. Sì. Parasite è un film che ha rotto delle barriere, ha rotto degli schemi e... I premi sono una delle prime cose che vengono in mente, ma anche il fatto che comunque la gente si è accorta che esiste un altro cinema, oltre a quello italiano, quello americano e quello... per qualcuno francese. C'è anche il cinema asiatico che è bellissimo. Però non direi segnante Parasite, a parte... Cioè... Parliamoci chiaramente. Parasite è stato un film che è stato visto da... Invento, 10 milioni di spettatori. La saga della Marvel è stata vista da 500 milioni di persone. Quindi... Sono sempre delle cose che rimangono un po' sui libri e un po' nelle persone vere e proprie. Perché è come il grande critico cinematografico che ti dice se non hai visto i film di Bellatar non capisci un cazzo di cinema. Però io ti potrei dire che se non hai visto i film degli Avengers non capisci niente di pubblico. Il pubblico è quello che poi dà un'identità anche alla sala cinematografica. Se non vogliamo dire cinema, perché poi magari Martin Scorsese si offende e dice che siamo dei cattivi consigliatori. Poi io l'adoro lui, però a me piacciono entrambe le cose. Ognuno ha delle emozioni a modo suo, insomma. Forse... Non saprei dire qual è stato più segnante, però sicuramente più importante è stata la saga della Marvel perché è stato un evento di massa. Cioè, quando è uscito Avengers era come l'uomo sulla luna, ok? Quando Parasite ha vinto tre Oscar e lo sapevamo noi che ci siamo appassionati ma molta gente non aveva manco mai sentito nominarlo questo film. Quindi è un po' questo, ecco. Poi non è che uno è meglio dell'altro. Probabilmente da un punto di vista di sceneggiatura Parasite è un capolavoro. Di che stiamo parlando? Posizione musicale. Però poi nel complesso magari quello è importante per tanti altri motivi, no? Sì, però Avengers è un prodotto fatto anche e soprattutto per il mercato cinese. Vabbè, mica... Va bene. È diventare il primo mercato al mondo. Ormai, cioè, sono... Forse lo è già... No, è uno dei mercati più cinematografici, più importanti. Cioè, tutte le grandi produzioni, Tendon, puntano a garantirsi una fetta di pubblico cinese. Penso che, in definitiva, Parasite e Avengers sono veramente inaccostabili. Sono due film accostabili perché sono stati due film segnanti. Hanno, come hai detto tu, segnato comunque la storia del cinema. Allo stesso tempo, e qui non voglio assolutamente sminuire Parasite, anzi, io l'ho messo al primo posto nella classifica dei migliori film dell'anno, quindi figuratevi, io lo adoro, Parasite. Però Avengers è anche un fenomeno pop. Avengers ha rappresentato qualcosa che è entrato a far parte della cultura pop. Era proprio un appuntamento, andarlo a vedere, era il culmine di un evento, era una cosa radicata non soltanto all'interno della sala cinematografica. I suoi confini non erano delimitati solo dallo schermo, era andato oltre. Perché la Disney era riuscita a dare vita ad un progetto vastissimo, vastissimo che, l'abbiamo ripetuto, lo ripeteremo, ha segnato la storia del cinema. Mi sembra che hai finito, perché ora me ne vado, così, una perfetta chiusura e basta. No, vabbè, aggiungi qualche altra cosa, è a disposizione altri tre minuti, in realtà. Ah, di tre minuti? Beh, allora. Chi volevo dirti? Niente. Ah, ti dirò il mio preferito, va, dai. Ti dirò il mio preferito tra i film della Marvel, perché... Rivedendoli, poi, ho capito un po' quali sono quelli che mi hanno appassionato di più, e a un punto di vista puramente action, anche di montaggio, di struttura, ma anche come i personaggi si sviluppano, è Winter Soldier. Sono abbastanza avuto che quello sia il mio preferito. Il più divertente è Guardiani della Galassia. Mi fa proprio ridere. L'uno e il due, anche, sono abbastanza indistintamente, proprio come idea, mi piace molto. A livello di scimmia, che mi è salita addosso, ti dico, l'ultimo Avengers, è una bomba, dai. È una bomba. Con tutto che Endgame ha i suoi difetti, eh? Perché non è un film, non è un film privo di difetti, anzi, soprattutto è un film che tratta viaggi nel tempo, e quando ti soffermi poi a ripensare al modo in cui sono stati trattati i viaggi nel tempo, c'è sempre qualche incongruenza. Sembra una cosa a cui praticamente nessun film sui viaggi nel tempo scappa. Però al di là di questo, proprio l'emozione che ho provato in sala, quella cavolo di scena finale in cui Captain America incitava tutti gli altri Avengers a combattere i cattivoni, cazzo. Cioè, chi se ne frega? È una bomba, cioè, è una cosa che, ti ripeto, poi io non sono il più grande dei fan, non sono uno che è stato là a rovellarsi, però Avengers Endgame è l'unico film degli ultimi vent'anni della mia vita che ricordi che mi ha fatto aprire un gruppo WhatsApp apposta. Di conseguenza, qualche impatto l'ha avuto, cioè, con i miei amici ci siamo messi là a dire, ma come ha fatto Capitano America a tornare con lo scudo da vecchio, no? Cioè, per esempio, quindi vuol dire, e l'altra, le altre due cose che mi hanno fatto questo effetto sono state Lost e Breaking Bad, e, scusami, Game of Thrones. Game of Thrones, che ci hanno citato prima in un commento qual è, secondo voi, la migliore serie, dicevano Game of Thrones, a parte il finale. Ok, fino a una certa, diciamo, poi, non so, hanno buttato la testa nel cesso e hanno scaricato, non so che gli è successo, però sì, ecco, quindi, se quello è l'impatto che ha sulla mia vita, diciamo, pop, chiamiamola così, allora ci sarà un motivo, no? Nel senso, se mi metto là, discute di... e poi, i viaggi nel tempo, raga, è fantascienza. Ma, a parte che so fantascienza e viaggi nel tempo, uno. Due, è un film di fantascienza sui viaggi nel tempo, di conseguenza, come fai a non essere congruente nella sua... Qualcuno dice Spider-Man, a me Spider-Man sarà anche l'età un po' più da trentenne che da ventenni, è un film che non mi ha mai particolare... Cioè, è divertentissimo, è carino, il secondo mi è piaciuto un po' meno, però non è che... Oddio, lo Spider-Man, quello del multiverso, mi è piaciuto molto di più. Sì, quello è bellissimo, quello è bellissimo. Come si chiama? Into the Spider-Verse? Into the Spider, Spider-Man, un nuovo universo, sì. Un nuovo universo, quello è stupendo, è un film della donna, cioè, quello è pazzesco. Quindi non è il personaggio che non mi piace, è proprio il film in sé, il personaggio, se si è fatto bene, è una bomba. È un grande film, ma ne parleremo in un'altra live, amico, perché ti devo togliere. Sennò poi Sonia, cioè... Salutami Sonia, mandale un bacio. Non la facciamo più fare. Amico, grazie come sempre per questa chiacchierata bellissima e ci vediamo la prossima settimana. Buon weekend. Grazie anche a voi e grazie a chi era con noi, grazie per le domande. Ciao. Voi continuate a seguirci perché tra un po' arriva Sonia e io, come sempre, vi piazzo un po' di musichetta dell'attesa. Ok, Sonia sta arrivando. Sonia, ma ciao, fammi togliere il tra poco Sonia, visto che Sonia è arrivata. Sto adorando, sto adorando la parecchia, Filippo. Sì, hai visto, hai visto, è incredibile. Cioè, sto diventando un virtuoso di... Chiamatemi per le vostre dirette Instagram perché lo faccio a pagamento, anche perché il periodo è quello che è. Quindi se si può incassare, si incassa volentieri, volete fare live su Instagram? Ci penso io. Sonia, come va? Bene, dai, bene, benissimo. Sono arrivate un sacco di cose bellissime. Non so se ne avete già parlato, ma è arrivata Afterlife 2 su Netflix. Io sono pazza della serie di Ricky Gervais. Pensa che io non ho visto neanche l'uno, quindi... Mi dispiace. Sono una brutta persona. E qui è tipo shame, shame, shame. Guarda, non ho preparato l'immagine. La prossima volta me la preparo e quando c'è qualcosa di cui mi devo vergognare la faccio uscire. Dipende. Lui ti piace come... No, mi piace, mi piace parecchio come comico. Se ti piace lui, la serie non c'è tra niente. Ok, quindi perché dovrei vederla? No, non è vero. È una serie molto molto bella. Devo dire che è una serie decisamente innovativa perché Afterlife, quindi parla di un lutto molto importante, a lui viene a mancare la moglie e lui parla dell'elaborazione del dolore, però in una maniera, cioè alla religione, cioè praticamente in maniera cinica, dissacrante, di come le persone ti vogliono salvare per forza, ma tu non puoi essere salvato, però poi inevitabilmente hai bisogno di chiare accanto, quindi invece di trattare male tutti e schifarli per le loro stupidità, per la loro semplicità, inizia anche ad apprezzare queste cose, quindi sono super in attesa della sua stagione. E poi c'è il meraviglioso Vindy Ben Affleck, cioè tante cose per questo weekend, tante. È vero che è uscito direttamente in digitale. Lo trovate su Cili, ma anche su altre piattaforme, si chiama Tornare a Vincere, e vi dico che c'è un Ben Affleck che affronta molti demoni, che non sono solo quelli del personaggio che è un allenatore di basket. Praticamente lui è stato una promessa del basket tantissimi anni prima, molla tutto, intraprende un altro percorso, viene richiamato per allenare una squadra viceale e lui, che fino a quel momento non aveva nessun scopo nella vita, se non quello di amare le ex moglie, sottolineiamo, affronta i suoi demoni vincendo questa sfida. E' un film molto, molto, molto biografico, nonostante la regica non sia sua, però è molto bello. Lui è un po' appesantito, un po' imbolsito, perché comunque, ricordiamoci, l'esce fuori da un rehab, però è meraviglioso. Cioè, c'è questo che è Ben Affleck, che tu ogni volta che lo rivedi lo vuoi abbracciare. Ne ho sentito parlare, oltretutto, da quello che ho letto, un'interpretazione particolarmente intensa per Ben Affleck, anche perché, la possiamo dire in parte autobiografica, mi sembra di aver capito. Insomma, riflette su tematiche che comunque lui ha provato in prima persona. Un po', sì. Sì. Poi, vabbè, lo vedrò stasera, non ho la più pallida idea, però abbiamo una recensione che abbiamo pubblicato sul nostro blog, e ne parlano bene. C'è anche Tyler Rake su Netflix, che è il film con Chris Hemsworth, lo vedrò stasera. Ma... L'hai visto? Concentrato adrenalinico. Sì, dicono che è una cosa da... Hanno nominato quando... Vabbè, poi Marco, il collega che ha scritto la recensione, gli ho chiesto, vabbè, ma com'è? Lui mi ha detto, immaginati The Raid e Atomica Bionda insieme. Cioè, quindi deve essere, cioè The Raid è il massimo del massimo del cinema action che è arrivato, che è stato girato negli ultimi anni. Quindi se è una cosa del genere io non vedo proprio l'ora di vederlo. Tu l'hai visto? Ha pubblicato lui sul suo profilo Instagram delle riprese? Cioè, ci sono gli istanti che hanno fatto delle robe? Lui pubblica questa cosa e dice, non fatelo a casa? Questa gente si lancia da un tendone di un negozio contro un camion senza alcun tipo di protezione? E lui fa così nel frattempo. E tu dici, questi stunt sono una roba. Ma guarda, io me ne sono accorta quando ho fatto Six Underground, che mi hanno fatto fare un po' di parkour, c'era l'attività stampa. Cioè, io mi sentivo un sacco di patate, ragazzi. Questi qui saltano palazzi, terrazzi, cose. Hanno ricreato proprio un set. E tu ti senti veramente una persona incapace di articolare i propri muscoli. Cioè, figurati se lo faccio io. Ma tu mi hai visto The Raid? No, però... È un film indonesiano, diretto però da un regista gallese, se non ricordo male, che è Garrett Ewans. E quel film, veramente, io non ho mai visto scene d'azione coreografate in questo modo. E oltretutto, quello veramente, quando lo guardi, cioè, io non ci credo e non ci credo tuttora che nessuno si è spezzato almeno un braccio durante le riprese di quel film. Mi è arrivato il consiglio, infatti, di vederlo. Forse mi ha caricato su delle cose. Però questo, chi sta insorto, non è girato da uno dei fratelli russi? No, è prodotto da uno dei... Ti sei un attimo frizzata? No, ci sei? Sì. È prodotto da uno, da un russo brothers. Però è diretto da uno stunt coordinator che ha lavorato con i russi. Quindi sa bene cos'è l'azione, sa gestirla. Ma abbiamo pochi minuti e dobbiamo parlare almeno un po' di quello che, se no, poi non ha senso quello che scrivo nella presentazione. So, anche perché ne vorrei parlare con te, perché tu più di me segui Festival più da vicino e tu più di me ti starai rendendo conto che stanno arrivando le notizie contrastanti ultimamente. E io ti faccio due paragoni. Cioè, il Festival di Venezia è Torino. Torino, che io ti giuro che l'ho riletto mille volte il comunicato e non sono riuscito ancora a capire cosa hanno intenzione di fare. Però Torino, a quanto pare, vuole intraprendere una via più sperimentale per il suo Festival, che ricordiamolo. Poi, cioè, si tiene comunque a dicembre il Festival di Torino. Fine novembre, inizio dicembre. Sì, fine dicembre, inizio novembre. E loro hanno già detto, non si è capito se sarà un'edizione online. Comunque sarà una cosa più sperimentale, a meno che l'emergenza non rientri. Non credo sia del tutto online, da quello che ho capito dal comunicato, che poi è molto ambiguo e credo sia volutamente ambiguo. Sai che c'è il Festival di Torino, a differenza degli altri Festival che hai citato, c'è Roma e Venezia. Prima di tutto è il terzo in Italia. E poi ha un grande valore aggiunto. Cioè, il Festival di Torino, dove sei stato anche tu spesso, ha la partecipazione attiva della città di Torino, dei cittadini di Torino. Cioè, loro aspettano, c'è gente che prende le ferie per andare al Festival di Torino. Quindi non possono disilludere tutte queste persone, che poi sono non solo il loro pubblico, ma anche i loro sostenitori, perché ha parlato anche il museo, il responsabile, il direttore del Museo Nazionale di Torino, che è comunque una risorsa importantissima per la città. È dentro la mole, quindi non solo turistica, ma anche proprio come centro nevralgico. Io credo loro vogliono strutturare un Festival interattivo, cioè tramite internet virtuale, però coinvolgendo comunque le sale, che di solito sono di meno, invece leggevo che ne vogliono coinvolgere circa 10-12, per fare in modo che l'affluenza delle persone si possa sparpagliare per la città. Cioè, qualora dovessero esserci ancora delle restrizioni un sedile sì, due no, un sedile sì, due no, magari con 10 sale, programmazione insomma di tutto il giorno, si può risolvere un po' la questione. Però di sicuro, secondo me, per giornalisti, stampa e tutto, sarà in via probabilmente mediatica. Non ho capito molto bene la cosa del renderlo virtuale, multimediale, questa cosa non l'ho capita, ma secondo me la devono strutturare anche loro un pochino. E poi, ecco, se a fine giugno riaprono un ristorante, cose, secondo me per fine novembre magari il Festival di Torino ce lo salviamo anche. Su Venezia ho delle remore importanti, non ho idea di che cosa vogliono fare. Non so come possa essere un festival senza red carpet, perché poi Barbera, che è il direttore del Festival di Venezia, ha dichiarato red carpet e interviste one to one non potranno mancare. Ma il red carpet di Venezia è fatto di persone accalcate lì fuori e 600 fotografi sul red carpet. Cioè, se tu mi metti il talent da solo con un fotografo, non capisco. Non so, non so se è un escamotaggio per non far bloccare a Cannes, visto che si Cannes ha la guerra, Barbera e Fremont, per quello che possono dire lo slot autunnale, cioè per non avere l'occasione di bloccare lo slot autunnale, poi magari lo cancelleranno, non lo so. Non ti saprei dire perché Venezia non sto capendo cosa vuole fare. No, ma soprattutto a me fa pensare il profondo, anche se comunque magari si è dimostrato confuso nell'esprimere, non avranno ancora le idee molto chiare, però l'organizzazione del Festival di Torino mi sembra la più consapevole di ciò che sta succedendo. Perché loro stanno dicendo guardate che, sì, molto probabilmente andremo in un'altra direzione e forse loro possono farlo più di altri festival come Venezia, perché non dimentichiamoci che, per esempio, è una cosa che a me è sempre piaciuta, anche se forse si discosta un po' dal concetto di festival di per sé, ma Torino non ha red carpet. Torino ha un grande evento di apertura e chiusura, ma poi non ha red carpet. Ci sono i registi che molto spesso partecipano alle proiezioni con il pubblico. Puoi camminare, ti trovi Sorrentino in sala, possono succedere queste cose, che è una cosa bellissima, secondo me, perché punta ai film, ha sempre dei bei film. Non c'è Glemo. Non c'è Glemo. Si fanno anche delle interviste molto, molto interessanti a Torino. Sì, io e di Redman l'ho intervistato a Torino, per esempio. Si chiedono dei David di Donatello. I David si fanno a maggio. Si faranno l'8 maggio e ci chiedono in che formula. Sarà una formula, guarda, come Fabio stanno adottando adesso delle conferenze stampa per i film in uscita, ci sarà un presentatore con uno schermo a cui si collegheranno mano a mano, credo, i vincitori. Credo andrà così. Sarà una cerimonia virtuale, in diretta su E1, quindi credo Carlo Conti. Non c'è altro modo, perché l'8 maggio è veramente dopo domani e quindi credo che sarà in diretta su E1, da uno studio di E1, in cui lui annuncerà i vincitori. O magari potrebbero fare una cosa un pochino più con qualcuno che annuncia le nomination e poi qualcun altro che annuncia i vincitori. Non lo so. Però si fanno i David. Allora, sicuramente non permetteranno di viaggiare di regione in regione, quindi qualche ospite potrebbe esserci, come stanno facendo poi altre trasmissioni, però sì, poi rimangono i collegamenti perché non c'è altra via, altra via d'uscita. Però non ci sarebbe barcondicio, non so se si può fare, sai? Cioè forse può venire qualcuno in studio, non a ritirare il David, però ad annunciare le nomination. Non lo so. Però è una condizione straordinaria, cioè non è che non ti faccio venire perché non ti voglio, cioè non vieni tu perché non puoi venire. Non lo so, non lo so. Potrebbe essere, magari perché è a Roma, perché no, sì. Sì, infatti, bisognerà, bisognerà vedere. Però niente, continuo ad apprezzare... Non è tutta cosa degli Oscar. No, mi ringraziate mali David perché questa cosa che mi dà fastidio, che noi schifiamo sempre i nostri premi, noi ce ne abbiamo anche molto prestigiosi, David Di Donatello, Nassi d'Argento, vi prego valorizziamoli perché abbiamo un sacco di maestranzi importanti e quindi non li vorrei schifare. Sì, no, è sempre un premio. L'unica cosa che ogni volta che li vedo mi distranisce il fatto che il motivo anche del perché poi i film che premiano, lo scarto che c'è tra l'arrivo nelle sale, tutto, premiano molto spesso film che hanno avuto magari l'Oscar due anni prima. Cioè c'è questo scarto temporale. Parate, sì, sicuramente. Quindi io non mi ricordo, per esempio, l'anno scorso che aveva vinto, che comunque era praticamente già vecchio come film, però poi sì, sicuramente si tiene conto dell'uscita italiana o di altre cose, quindi va bene. Fabio, no, la faranno pure Rai 1, non sarà Rai Movie, sarà comunque Rai 1 che trasmette il David, è arrivato il comunicato, quindi... Sì, 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 sì. Presentata da Carlo Conti. Niente, siamo raggiunti al termine, Sonia. Mi raccomando, tante cose bellissime da vedere in questo weekend, quindi recuperate Afterlife, Filippo. C'è il film di Ben Affleck, torneremo a vincere, c'è il film di Chris Hemsworth, non lo so, poi... Io mi devo vedere così, ve lo spoilerò, la settimana prossima registerò il nuovo podcast e mi guarderò in questo weekend, costringerò anche la mia ragazza a vedere lo Star Wars turco. Cioè, questa è una delle tue chicche che io poi mi devo rimediare? Esiste uno Star Wars turco che è stato realizzato anche rubando pezzi dello Star Wars originale, inserendoli nel film, rubando colonne sonore da film come Indiana Jones... C'è un genere che si chiama Turksploitation, proprio, perché abbiamo l'ETTurco, il Rambo Turco, il Superman... no, il Superman mi sa che è indiano, però è T-Turco, per esempio ruba una canzone a Pippo Franco, cioè, quindi ti dirò, cioè veramente è un mondo incredibile Instagram. Su questa chicca io concluderei perché Instagram tra un po' ci taglia. Ragazzi, ho capito come si carica la live su YouTube, quindi se tutto va bene domani, la trovate su YouTube, faccio passare un giorno così ve la riguardate su Instagram. Sì, roba turca, caro Marco. Niente, ci vediamo la settimana prossima. Buon weekend. Grazie, Sonia, per avermi fatto compagnia, aver concluso questa live particolarmente stimolante oggi. Buon weekend anche a te. Grazie a te, mi raccomando, mamma li turchi, ci vogliamo tutti quanti che sono con noi. Non mancherò. Ragazzi, dai, godetevi sto weekend e ci vediamo la settimana prossima. Ciao, ciao. Ciao.